benvenuta benvenuto a questa nuova lezione del maestro sfredda affrontiamo lo studio numero 11 da cerniana primo la raccolta di studi di cerni curata per l'editore curci di milano da alessandro lungo ho pensato a questo ciclo di video lezioni non solo per i pianisti del corso preparatorio o propedeutico ma anche per i giovani insegnanti che desiderano approfondire la conoscenza dei problemi didattici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti